Nel SIGRI Rice Angola SIGRI È persone di città Davide Davide sta lavorando in Italia Stai imparando gli italiani Fatemi sentire con Davide Ok Davide Sei pronta? 3, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, cambio! Ovo l'acqua! Esa è! 10 secondi! 8 secondi! 3, 2, 1, cambio! 3, 2, 1, cambio! E' un giro che! E' un giro che! E' un giro che che! E' un giro che! E' un giro che! Ah "... all this lady is competing and she was training super hard to get in this shirt look at that." "... look at this..." "... this is your name, look!" "... look at home..." "... with that shirt for me." "... all these otherékne. All these upstairs are solo stones?" Valuigi e questa è la Visto variazione Ruido per la Kelly Che passa, chabalò? Valuigi è a dare create a griffi 1 Cambio Switch 50 secondi Forse, un'eropente round Per il primo round Per la Holanda This is just 30 secondi Sì, c'è un po' di sottotitoli, un po' di sottotitoli Che farsa! Come on, you can do way better! Valencia, make some noise for the ladies! Let's take a look at the highlights once again. E' la battaglia! 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 The first Gooding position for the judges! Three, two, one... K-��! K-��! K- , , . Grazie a tutti.